Una volta saliti sulla tavola, possiamo farle cambiare direzione con il wing ancora in acqua. Per eseguire questa manovra, il wing deve stare sotto vento rispetto alla tavola. Spostando il wing verso prua, faremo poggiare la tavola. La prua si allontanerà dalla direzione del vento. Se invece spostiamo il wing verso poppa, faremo orzare la tavola. La prua si dirigirà verso la direzione del vento. In questo video, il vento arriva da terra, da sinistra. Spostando il wing verso prua, la tavola appoggia. La prua si gira verso il mare aperto. Spostando il wing verso poppa, invece, la tavola orza. La prua si gira verso terra. Queste manovre sono importanti perché ci danno la possibilità di portare la tavola al traverso per poi girare il wing e partire.